Anzi, tra l'altro bisogna arrivare prima possibile per aver trovato tutto il casino del Inter-Milan. Ma vai a che inizia, Fede. Che scherzo. Guardalini è l'uomo di classe. Chi è che ha messo la maia numero 10? Dai dai, per favore non iniziare eh. Io sono fatto così, se non ti va bene vai a vedere le partite in televisione. Dai insieme! Dai, guarda. Vi sei da stile, non ci devi andare a vedere, adesso ci si venga la mazza. Chci chci, chci chci. Dai qua. Dai qua. Serena. Buona guarda Eh devi stare un pò tranquillo, faccio vedere la stanza. Oh, attenzione. Sonia Guarda che testa di cazzo Roni Ma che passaggio Concentrati Concentrati Beh ragazzi concentrati Fin da subito Vai Gita Ciao Terra sta fai Terra Brava Che buono Grazie bravo Cargo di fuoco Ah non ci perde Non lo dici Ah vi Concentrati Difesa Buona Cagliela là Cagliela là Cagliela là Cagliela là Attenzione eh Attenzione a difesa Perchè non rinviare? Perfetto saliamo dai! Ma ti ha incazzato il biscuit? Ho ragione, ho ragione Quando inizia a urlare si inizia eh? Si sta facendo schiacciare Attenzione 4-4-2 oggi No 4-3-3 Eh meno male C'è una formazione che che sappiamo fare Sì va bene Dove non fare solo È uscito un po' di sole eh? Buono, è buono Eh che stasera si vendica poi Io vado allo stadio Filippo non viene allo stadio, strano No abbiamo preso una sola tessera No c'è la tenuta Fuori Dai vacci carabuona Grazie Bravo Attenzione a questi errori Non facciamoli più Giusto, giusto E' un fallo E' un fallo proprio Sei pronto a entrare? Bambino Attacca Sulla fascia destra Sulla fascia destra Che corri come una parte Ah c'è la bella Bene Va bene Va bene dai Attenzione dai, tocchiamoli più eh Sotto lì Via, via la palla Tranquillo Filippo Sicuro se non è preso E non scatta nessuno Ragazzi, tocchiamoli più però Sennò Zitto che cosa, io parlo fin che voglia La mia squadra Vabbè 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 Ma ti ha fatto pagare? Cinque euro Sì 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 Vedi che sei un giocatore Anche se non ho messo tutto l'era Il dirigente ha portato il mio aiuto oggi Oggi ha portato il mio amico Oggi ha portato il mio amico Oggi ha portato il mio amico Oggi, spero sempre quando vuoi Sto facendo attenzialmente Diana, però devi stare prano Non puoi riuscire a guardare Diana, devi stare concentrato sulla partita No ma adesso continuamente Cosa la È una roba per te Bravi, bravi Così Bravi ragazzi Bravo, bravo Facciamo un bel pressing Bravo Gigi Ah Valentino è quella Quella è la punta Non mi ricordavo Perché non c'è neanche Paleari? Paleari non so Non è stato convocato Non è stato convocato Ma è più forte che c'è E poi chiede l'Europa Però Comunque abbiamo un buon attacco Sembra di prestare un po' di più È brutto fallo È giallo questo È giallo È giallo netto questo È la giallo Ho avvisato al prossimo fallo che fai giallo Ok Non mi ha fatto opposto No ok, però è la giallo È la gialla È la gialla È la gialla È la gialla Vabbè Sì Chiudere il martello È la gialla 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 Sì, sennò no Non va bene Piccolina Stai un po' serena Non posso È Vai Alietti, bravo Vai Cicci Un bel cross Nooo Cosa fai giochiù? No Valentino Fai le cose semplici Invece di fare l'appoggio E poi scatare Fai le cose semplici Non stiamo vincendo Ci stai Ci senti il cuore Si, no, figurato Però Adesso Bisogna vedere Andando avanti Quanto è che è bastato solo 6 minuti Bisogna andare avanti dopo i 20 minuti Bisca Dov'è Bisca? Dov'è Bisca? In una città Vai E' buona E' sempre in pace Vado fuori Sto accalmando Vai Ale grande Sta giocando bene adesso Oggi Anche da loro Vai 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 Bravo Succede Primo errore Primo errore Primo errore Coraggiare Bavere Noi Bavere Bavere A presto Chi è ad otto? E' un bambino, deve correre Aspetta, non lo scovedo a chi è però Ah, ma deve minore, se non lo conosco Deve correre, lui sta fermo Forza salmelo E vabbè, sai, mi devo un po' abituare a questo gioco da seconda Non è semplice, eh? E là Eh 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 Visterino perde un'aggiora plastica del cuore Beh ragazzi che va bene Ciao Giochiamo bene Voglio questo Visterino 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 Sai che vado a prendere un caffè? E le fanciulle giù Ah, ho capito adesso Vede Se è così vai No, no No, l'ho capito No, l'ho capito Bello Bravo Bravo Valentini, così Così Sì, dobbiamo tirare Bravo Valentini Personalità Tiro Per non rivedere però Tirovo io ero al 7 Tirovo, mi piace che tirino Mi piace che tirino Mi piace che tirino E' questo che mi piace Questa è la tiranata Va bene, adesso miglioriamo la faccia Un po' Un po' Un po' Dai dai E' la palla però E' sulla palla 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 Mi uccidiano In braccio E' questa ragazza E' tremenda E' tremenda E' tremenda, va in braccio E' una palla Ma tu sai tutto il giorno Ti la coccoli tutto il giorno Per lei si Ecco, vai dalla Gallo Non posso detto Quando è fuori però non mi mordo E' appena entrano in casa mi gagne Diana, adesso sto facendo le riprese Non posso dar tiretta Panchetta Oh 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 Se fai così Si sgagna Si sgagna l'altro Allora che la prossima volta ti mordo Ma non sempre giù con la pancia che palle no a me lo fa non lo fa a me perché vorrebbe la carezza Gianna fa un giro dai sulla palla basta seduta seduta qui no attenzione attenzione difesa bravi palla palla sulla palla fino adesso gioco da terra però bene lo stesso andiamo giusto fare un po' e passare la pallone diciamo che i primi 20 minuti sono stati belli anche la scorsa partita adesso vediamo voglio vedere dopo i 20 minuti no stanno giocando stanno giocando meglio i ragazzi stanno giocando meglio stanno giocando come la scorsa partita stanno già perdendo adesso lo dico guarda anche la distrazione bravo bravo vedo guarda di che era stanno giocando vai cos'è come cazzo ma se c'era uno che era in difesa da un'unica dell'aereo si vista quando è stato qui questo non ci fa toccato vabbè diciamo che andiamo per uova il 2 il 2 di chi è il 2 di chi è in fascia da solo attenzione a sinistra è capitano non c'è oggi non è stato convocato non so perché se non vi strampirla ma c'è che c'è la distrazione dai SEM dai SEM dai SEM prendi la fila ma con le mani filo no non poteva ma no no non poteva prendere la sua mano era retropassaggio si se no attenzione bravo Carlo bravo così bravo Carlo il nostro centrale ha fatto un grosso miglioramento mi piace molto no sto dicendo di Carlo che prima non era un grande gestore era un buon giocatore ecco è la palla dai con il mancino il 10 quel 10 lì giocava nell'alcione qui si sinistro sono una squadra di che ha giocato in prima categoria quindi non è mai che so forte hai giocato anche nell'alcione il 10 no dicevo la squadra poi il 10 non lo so non lo conosco vai Gigi un bel invio lungo non riesco a star lì con Carlo no 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 shh stai tranquillo tranquillo adesso non è che posso stare con te perché sto facendo le riprese ecco la bimba no Vai dai, vai dai, vai dai bacino Nooo, bravo Dai Chi è il dieci? Cos'è? Perché è dietro? Perché? Valentini Ma cos'è? Un mancino che gioca a destra? Eh? No 3, sì, la data di sinistra Chi? Sì, sì, lui è 3 mancino Eh, mancino ma gioca a destra Eh, perché l'altro terzino non è capace di giocare a destra, a sinistra Anche l'altro mancino Non so Non so Dai 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 Vai che ci faccia, vai Vai avanti Perché? Bravo Bravo Non ce l'ha fatto Vai 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 Non fare il fallo, inutile Non è fatto È giusto, è fatto L'ha fatto, l'ha fatto L'ha fatto Poteva non farlo Poteva non farlo Completamente niente Non doveva farlo Ho fatto una capolata C'è un contropiede adesso Dai ragazzi, giochiamo bene Un po' più di azioni Dai Un po' più di azioni Vediamo le cose come stanno Ma hai due gol così da la volta scorsa Nel primo gol della volta scorsa non era cosa Non sono imbattibili questi gol? No No È da pareggio Non c'è stato neanche un tiro in fondo Nessuna squadra insieme qua In questo campionato non è imbattibile E' il secondo quando si stanca No Non sono squadre imbattibile Ecco guarda Te l'ha detto Dai Simo Dai Simo Caccia Prima 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 Bravo, va bene Bravo Carlo per il salvataggio A che tempo che siamo? Diciotto Appena diciotto Sì Ma non abbiamo giocato È perché piovelo Però c'è Sume l'acqua Sume l'acqua Diciotto when golo E' vive là Libenipo cambia palo Uoli Bravo Bravo Carlo Bravo Gigi Qu cazzo è arrivato lì però Ma è forte Diplo Alcato a doppio Alcato a doppio Avete valorizzato Ma perché non parte? Gira subito bravo Giusto, gioco pericoloso E a più farlo prima, non avrebbero la stessa Giusto Sono correttissimi, non soppi Empoli sta sempre vinto Che ha segnato? Sempre uguali, il risultato è Empoli e... Sì, sono iniziati i secondi tempi da poco Sì, non soppi Siedi, non soppi Quindi per la sbaglio mai ve lo aspettiamo Sì, non soppi Sì, non soppi Awww Sbaglio, venga un po' di te Bello, gran palla, vai, vai fuori Dai Bravo Filippo Bravo Attenzione a questi contropiedi Bravo Attenzione ai contropiedi Ha chiuso bene Attenzione ai contropiedi, non devono più succedere Non lo voglio più vedere Non era un contropiede L'ha perso il difensore L'ha perso il difensore, ma non era un contropiede questo Vabbè, ha chiuso bene il filo No, guarda che senta Sì Voi è stato fortunato nel... Se non l'ha comissato di... Ma sbagliato Solo Ha sbagliato e ne ha sbagliato anche il difensore No, cento campo, non so l'essere Un atto di contropiede adesso Tu cos'hai una masetta? Sì Vado le mani Sette forse Sette forse Sette forse Sette forse Sette forse Ha 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 Sette forse Noi giochiamo così tranquilli Passa la, però Dai Filippo, coraggio Attenzione, attenzione ai contropiedi, attenzione ai contropiedi, attenzione ai contropiedi, Secondo me ogni volta che arriva c'erano invece... La parava! Vado il pallone in tribuna per la falla Dai Alessandro Non è che guarda va bene così si spazza vai da papà Diana vieni Diana vieni Giannino vieni qui perché non batte Filippo e li fa battere perché non esco boh non andiamo a casa stai qua fino alle 6 bravo provala provala mai devo provarla lì aspetta non ha fatto bene appena ho preso la palla però poi mi tira tira ecco anche poi mi deve trovare vabbè ok vabbè buona vabbè buona Tomi si troppo avanti il filo aiutatelo bello filo avanti avanti gioco ok giusto era palla però abbiamo lo stesso si incazza si incazza era palla vabbè si era partita la bella no ha preso la palla concentrato non guardare qua due parate una neanche forse no qualcuna è parata neanche questa qua è la parata dobbiamo giocare così meglio siamo già al venticinquesimo quindi vuol dire che stiamo giocando meglio solo al venticinquesimo si però stiamo giocando meglio parata 5-45 si perché il ventesimo non poteva gol l'ultima scorsa giocando meglio siamo solo al venticinquesimo si incazza mosca che fanno dai sulla palla fermalo lascia ragionare vabbè vabbè a rigore via via a fare uno siamo noni in venticinquesimo morto vai uscita avrai uscita giusto a fare un attacco di sottoferra no no è sempre stato un difensore un terzino che cazzo è questa roba perché attacco no si è confuso si si è un terzino per rante ma com'è il 26 il 27 ecco il basilio è una tribuna simile eccola qua il basilio l'anno scorso lì è venuto 3 mi sembra abbiamo vinto no abbiamo perso 2-1 con il basilio abbiamo perso era la prima giornata magari al ritorno abbiamo vinto però volevo contordare come ricordo non so fai uscire la palla per favore vai su dai piedi dai piedi dai piedi bravo diamolo in mezzo la occhio oh ma bravo adesso lo stanno bene no e come no si si stanno schiacciando no ma noi ci stanno dipendendo bene si se vanno avanti così adesso adesso dobbiamo dobbiamo sfruttare un contropiede queste cose stanno giocando meglio rispetto alla volta scorsa e queste cose sono più forti ti sei buttato non ti ho che fai io vabbè se gli ha dato un calcio? vabbè va bene così da fallo vabbè 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 stanno giusto ma che cazzata ragazzi fai il gioco è giusto è giusto è giusto c'era di un metro c'era c'era Non lo so. Non è ancora andato. C'era, c'era, l'ho visto. C'era, non so di quanto ma c'era. Vai! Mi viene riveda però rivediamo. Si poi andando facendo i ragazzi e vede. E gira, e gira, e gira! Gira di qua! Dai! Filtro! No, è stato fatto da solo. Si. Mi ha rivedo la scala. E' giusto? Lui era l'8. Non so perché è morto l'8, era l'altro. Era il 3 o sbaglio? Era... No, l'8, l'8 giusto. Secondo me era il 3. No, l'8, l'8. No, l'8, l'8. No, l'8, l'8. No, l'8. Vabbè. Perchè se non c'entrava un cazzo dentro? No, l'8. Aia, non importa questo discorso. C'è veramente un male che aveva preso l'otto che era tre. Attenzione, non facciamo fallo. Guardalo che libero. Justo, fuori gioco. Ragazzi, proviamo a segnare. Giù, tira. Scusa che mi devo scendere. Quello, quello! E' Albitro! E' Albitro! E' questo qui! Vabbè! Ci ha ammonito quello! Punto, mi cagliarlo. Che non era lui da ammonire in tal caso, Albitro. Era l'altro. Vabbè, però non era la munizione. Non era la munizione. Non era la munizione. Si è fatto male. Tegliamolo via. Da solo. Da solo. Avrei messo giù male la gamba. Dai Ferra, ci sei? Ma non gioca a coso? Chi? Chi? Chi scusami? Chi? Masselli. Cazzo, Masselli è forte. No, non è titolare però. Ma è forte Masselli. È una riserva. Qua mettilo dentro, cazzo. No, magari poi lo mette. La volta scorsa l'aveva messo dentro 20 minuti. Metti a posto di quella capra lì. Chi? Nove. Eh, un po' dura come scelta. Si chiama il nove. Dove? Che lui è una punta, Masselli, dentro io. Nove si chiama la macchia. Adesso vediamo. Non sarebbe una brutta diametta, no. No, non è male. Ha giocato anche abbastanza bene per la scorsa. Guarda che era una partita così. Si fatto un 20 minuti buone. Uuuu, cosa gli ha fatto il sombrero? Gli ha fatto il sombrero. Ha ha. Ah, 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 ah. Ah, no. Dai, bravo. Dai! Eh, ma cazzo, ma sai svedati però, eh. Pallo! Pallo giusto. ragazzi dopo la metà a campo vi voglio sempre con la palla lo so, lo so, bisogna suonare che cosa è sta roba, che cosa è sta roba ferro, dai tiriamo meglio, dai, tiriamo meglio non era un tiro, voleva crossarla in mezzo dai, 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 apprezziamo i tentativi, dai un tiro buono l'abbiamo ancora fatto però, eh eh, sporniamoli, sporniamoli, dai, così ma come manca il fine, non manca neanche dieci minuti adesso se non guarda Amsic, speriamo Amsic è anche orte maia, notte maia come si chiama Higuaino, speriamo un cazzo da solo contro tre è un bravo giocatore con il 9, eh il 9 e il 10 sono della nostra squadra, sono forti eh, sono forti, si vede che sono esperti vai la brava bello Filo così sei da bloccare Filo, eh, è da bloccare no, era difficile bloccarlo, ho tenuto forte da solo, ha fatto da solo, andiamo avanti da solo ma cazzo madonna, ma sveglia, un passaggio passaggi più corti ragazzi, più corti, più precisi genoa dai che bella, dai che bella questa, vai 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 fotografa servito le gambe le gambe si è in tre contro di lui è un 3 contro 1, però 3 contro di lui Non l'ha passato è andato da solo Dai coraggio reagiamo e segniamo subito un gol Sarà facile Dai è forza è andiamo avanti Dai 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 Noi Quanto sono? Una piazza facciamo un bel anoparra è stato un errore della difensiva si un errore difensivo butto mi hai lasciato abbassare il sette che è contropiede o il nove se non mi ricordo come un contropiede sette avevo detto di mancarlo dopo con l'uomo adesso dobbiamo insegnare non mi interessa niente dobbiamo insegnare il primo tempo mancano mancano sette minuti avevi il boriello in fantacarca? il boriello no io non mi ha insegnato un bel golf cazzo io mi sono preso Kogba nel fantacalcio mi sono preso Morata Morata ne fa di gol di solito ma diciamo che la squadra non gioca bacca bacca ne farà di gol anche per me non ha il derby ma li farà la domenica prossima no no io spero adesso anche stasera io so che le bacche di solito le mangio poi non so che fare ne gore ho fatto la battuta via via con la palla ma perché? aveva tutto il tempo per passarla dietro non so aveva patente dietro per me il vostro uomo chiave sarà Balotelli ma io non giocherò neanche se ne mamma è il messo invece l'ho sottovolutato Spero non stasera, ma ci siamo venuti a stare. 5 minuti, dobbiamo toccare qua. Che? No. No. Itala. Diana, bitcoin. 5 minuti. Abbiamo toccato questa svista. È una partita da fare in mano. Questi loro hanno pressato. No, adesso dobbiamo fare un gol adesso e poi vediamo. Guardavo il gol che vieni. E ti distratto. Più importante è il Leone adesso. Nel corrado, adesso in perciò. 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 Non c'è, no? Perciò. Perciò. Perciò, non c'èắn? Perciò che perciò. Perciò, non c'èo non e il prendere il prendere il? prendi lì prendi lì qua dietro vieni lì che c'è? non giù non è passato poi è giù con il sarracino no è bravo per i giocchi in due vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua monna che cazzo vieni qua quello è buono porca di qua vieni fuori fuori eh bravo bravo Gigi lo più forte che abbiamo ci manca? tre minuti andiamo un metro e cinque metri vieni a scattare se no non scattiamo se vuoi andare tu vai li porto io da qui quando c'è un po' con la mia anche poi devo andare mi fanno la multa se la lascio fuori la macchina sul giallo qualche parte allora la metto dentro sulla salita del box non abbiamo posto giù sulla salita l'ho messa l'altra volta metto sulla salita la metto davanti al box o la metto davanti al box no la metto sulla salita meglio bello bello orchamidee va bene va bene va bene va bene vai va bene doveva tirare meglio però tre di sola per tirare e vai Diana la tratta dei signori di là che non dà se non dovrebbero mettere 8 Diana come sta lì a salutare ci vedi a restare simpatico piccolina dove vai ma non così è buona ah sbaciocchione ocio 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 è buona aia questo non mancino dai e non ce la fanno tre erano per fargli la palla in tre sveglia cazzo i lanci servono l'ugher non ce n'è c'è l'idea di gioco buona qui bravo ma basta vai tranquilla giù 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 questo è morsica no morsica solo quando in casa fuori no? si masica camarata stasera sicuro stasera si camarata sai cosa faccio aiuto se vuoi faccio una pasta io stasera così non faccio lavorare marina avvisare la marina non sa niente se tu non hai avvisato la mano si che devo dire ma non mangiare ho preso un braccio e lo metto mi avvisala però mamma sono più felice a cucinare no adesso cuciniamo intanto non è che si vabbè ciao stai tanto cuciniamo no dai dai no 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 non so che lei mi piace stai fendendo dici stai fendendo dici no 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 la gente che non conosce stasera lo facciamo al camara no faccio a te io faccio un po io faccio un po io faccio un po io faccio un po ok dai che è chiuso dai che è chiuso dai ragazzi lo chiamo dai ma sveglia o la sveglia o la sveglia o la sveglia occhio hai fatto il basket hai fatto il basket ma dopo te lo risco no attenzione se cagate qua non bisogna farlo no no dai dai sveglia dai sveglia non so dai dai lì è te sta attento ti faccio un po te ti faccio un po dai 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 cazzo ma vado lì con la mia squadra a sette di tiro cazzo vinciamo non ci fa partita no non penso si si troppo forte troppo forte guardate corrono tutti il doppio tutti il doppio corrono eh ma è 11 e non sono capace di giocare si si sono capace un po' di tecniche migliori appunto masi viene accad turnedare stii che stia 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 3 carbolla cane vai dai dai chiedi l'olà chiedi l'olà hai visto la tua vita vai come cazzo si fa? ma buttala via no La sveglia bravo, la sveglia La perdiamo 4-0 se continuiamo così La faceva lo zio Berdo Bisca, metti Mastelli Cazzo lo tieni in panchina Uno dei più forti che abbiamo Porca troia Lascio un po' la giacca Sì Va bene Ragazzi, dobbiamo farne due a meno Dobbiamo farne meno due Dov'è recuperare? Ufff Non lo farò non mai Vedete qui, anello? Sì Sì Il cazzo anello Bevo me, dai Ma qualcosa? No, no, grazie No, no, grazie Non c'è più quel difensore forte numero 5? Eh, non c'è Non viene più No, forse dopo rientra, non lo so No, forse dopo rientra, non lo so No, stiamo giocando male di nuovo Non c'è Abbiamo giocato meglio, eh Abbiamo giocato meglio, però sempre male Io ho capito, non vedo nessuna parte Adesso vediamo, è ancora lungo Io confido ancora che recuperiamo adesso Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è No, vabbè Scusate Dov'è Scusate 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 Non c'è 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 Sì Vai Guarda, ponte Bene Una bella roba Dira Dira di qua Dira di qua Dira di qua Buona buona, dai se! Si! Ciò che la voleva fare! Ma si che? No! No! Vediamo dove vai? Cambiala! Grazie di 50 euro! No, ci vediamo in tasca! No, ce li avevi più? Per me no, non ce li avevi più! Io non capisco che qua c'è scritto 0,69 centesimi e l'hanno fatta pagare 2 euro! E' perchè loro l'hanno pagato con lui! L'ho abbandonato fuori dallo stadio, cioè ci devono partire dall'altro! Vai Filo, vai! Tagliala! Bravo! E non provano da fuori un tiro, pazzarola! Non lo so! Vanno Vanno Ale! Vanno Ale! Vanno Vanno Ale! Oh, oh, oh! Oh! Ah, qui puro! Dai, dai, vai! Se deve andare un po' irritato, però, oh! Ehi! 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 Ha ringhietto, Dian, hai visto? Ha visto che ha ringhietto? Perché? Rosso? Ma perché? Perché è rosso? Non lo so, ha bestemmiato questo. Era già morito. Ma perché? Ah, ecco bestemmiato. Non lo so. Il portiere ce l'è? Come mai è rosso? Non lo so. Non lo so. Ah, sarà per quello, è giusto. Ho troppo gestato, ho detto un'acqua di feste. L'ha bestemmiato? O bestemmia, o l'ha bestemmia. Ma se avessi terminato è giusto. Quando giochi a calcio, uno ogni tanto scappa. Secondo me. Cosa? Quando giochi a calcio, anche scappano ogni tanto. Eh, però se scappano, se l'abitore sente è rosso. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Mancano 35 minuti. Dobbiamo cercare di... Con uno in più, con uno in più, dobbiamo pareggiare. Ecco, diciamo così. Come dice Sacchi, in dieci ci gioca a me. Eh, quello non è paura. Però se lo mettiamo qua si deve recuperare, non interessa. Eh, oh. Mi ha fatto neanche un tiro in porta in tutta la partita, uno. Adesso non li facciamo con uno in più. Cioè adesso. Abbiamo avuto questa... 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 Fortuna. Adesso vediamo di utilizzarla. Dai, Fido, vai. Vai, vai! Due o tre giornate... Perché sai tu come sono anche loro. Due, due... Due... Due, da me ne vengono per i due... E... È un bel sentaggio. Questo è giallo ancora. Un bel sentaggio. Un bel sentaggio. Questa giallo ancora. Sì, ci hanno fatto farlo più male, lui. E ci credo che dobbiamo fare il reaggio, sono sincero, abbiamo ancora 35 minuti per creare la reazione, ho visto di ogni nel calcio, specialmente adesso, se è così allora non c'è altro da dire. Tanto di cappello, bravi, se è così, tanto di cappello, bravi, meritato di non vincere il campionato. Adesso vediamo. Qua si sapeva già che non è una volta difficile. Sì, però abbiamo preso il secondo gol che non è un errore. Secondo gol, è anche il primo. Beh, anche il primo l'han persa la palla, eh. Mi sa che fare i giochetti, la passava subito. Sono due gol e con due errori stili. Però stasera anche bravi loro. Dai, spalla, dai. È giallo. No, è giallo. È giallo, ma che gol. Cale, vai via, esatto. Ho fatto più coppunti. Non ciò, non ciò. Non l'hai fatto, giusto già. C'è preso il gelatino. Coca-Cola. Di qua. Dai. Ho perso con l'Atalanta. L'Atalanta è sempre un azzero, no? Forse è un azzero. Cavolo, segnavo anche l'Ansic. L'Atalanta è sempre un azzero? No, due a due. Vabbè, ho messo in signe. D'annato ho messo in signe. Vabbè, sì. Siamo appareggiati. Chi ha segnato? Io l'ho perso, allora forza Milan per stasera e basta. Cos'è? È una bella partita. Qua si verrà? Vabbè, lo farmi in signa. Per me, come sono le spazio, anzi, tanti golpi. Per me finirà uno pari. Per me finirà uno pari. Che segnerà, te la spazzala su, cazzo. Ti dico anche che segnerà, per me segneranno... Jovetic e Bacca. Segnano uno pari. Non è più facile che segneranno i carding. Per me segneranno i jovetic e Bacca. Ho fatto il 5 con Filippo. Ok? Ma già gli ha regalato una mano, Giallo. Il 5 nostro? Non è buono. Vai, Sam! Grande, figlio! Bravo, Filippo. No, non l'ha presa. Non l'ha toccata, perché? Beh, bravo però che... Beh, bravo che era giusto sulla palla. Beh, se ci bevamo anche per le intuizioni, allora. Fede, cosa dici? Ce la facciamo pareggiare, secondo te? No, ma tu manca a te. Mezz'ora. Poi da meno. Ma che se giocano sì. Dai, siamo uno in più, dobbiamo pareggiare. Voglio vedere il gol, voglio vedere il gol. Non c'è senso. Voglio vedere il gol, non stiamo toccando bene in questi ultimi minuti, vai. Dai, sveglia, siete un po' in più però, cazzo, dai. Questo secondo tempo, diciamo. Aiutatelo, è da solo! E la mano l'ha vista, va bene. Allarga il suo piede, Davide! Dai, non male. E' un perlizzo. Mi fa incattare che i tre migliori non ci sono più, cazzo. Noi Fede e Matti, non ci sono andati da un'altra parte. Non c'è più il migliore. Ma dove sono andati? C'era un fissore che si chiama Mataranto che era fortissimo. E' il migliore. Aveva giocato in eccellenza e promozione. No, Fede e Matti ho giocato i 16-2. Poi non c'è Federico Garibaldi in campo. Ma dove sono andati? Solo, solo! No, no, no. Fanno canotaggio, fanno un altro sport. Fanno punche. Però fanno poi social fibra sotto la sette. Perché non lo voglio. Solo! L'hanno ritriato. Ah, mette Matti non lo so. Io anche se non sono bravo fuori. Mi gioco in portano. Mi mettevo lì. Più che fanno passare? Va, dicevolata lo tiro due. Eh, qua dì ti l'hanno in rosso. 25. No, dove ando a giocare bene? No, che 25? No. Carina qua. Guardi. È piccola, eh? No, no. Carina, la carina avrà un 25-23 anni. Ah, qua in fondo. Pensavo che dicevi la bambina io. Non sapevo che dicevi la bambina io. Dai, cazzo, bro, ora. Dai, cazzo, bro, ora. Oh, la madonna. Eh, no, gli ha tranciato. Era giallo. Non mi aveva dato. Eh, ha tranciato? Il tormento è scomposto. Questo è un carambo. Eh, questo qua, cross cheso, bam, uno di testa. Dov'è mandare, proviamo. Siamo nel campo, c'è un cavolo da fare. Si segna Carloni. Può essere? Beh, beh, non il difensore. Allora, va. Dov'è c'è di tempo? Bello. Ma che fallo è questo? Questo non l'ho capito Anch'io, lascia giocare Non ho fatto niente Eh, tutti, nessuno l'ha capito No, neanche io E' inutile, fai giocare Punto, ho maggior ragione Non so, dopo si vede che hanno giocato un po' di noce Buono Dai, va bene, dai, dai, dai Non fa più quello di cazzarola Dai, sugo, ce la facciamo Cambia qualcuno, cazzarola, però Hai già cambiato Uno? Cambia niente Un trettino, cazzarola Se mette il massaglio che uno trovi da sfornamento Corre, cazzarola Non penso che sia, non lo so Dai, Caro, fai una rovesciata Secondo, Davide, secondo Non l'avrebbe mai preso Ammollate! Io non correre, mi chiedo Ci fanno Mi faccio anche il pionone, vecchio Mi bello Mi bello Mi voglio saffiare L'orecchio Una femminuccia Sì, una cagnolina Puccia In che là c'è un altro C'è, ne ha concentrato No! Ha dato un rigore inesistente Ha dato un rigore inesistente Inesistente completamente Inesistente No, non c'era, non c'era Non c'era Non c'era Questa ce l'ha completamente regalata No, c'era, c'era Lascia di fare, lascia di fare Ciò che importa è quello che fischia Ciò che importa è quello che fischia Facciamo! Ma te lo tiro a destro Bravo! 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 Valentino! Bravo! Ho pure sbagliato il rigore Vabbè, giusto così S'è scarso Valentino S'è scarso Il rigore non c'era No, secondo me C'era S'è scarso Valentino Dove parlo? Cavolo Non fa sbagliato Io lo tiro a media altezza Non la prendi Ho fatto un paratone Dai, dai Non è da farlo Dai Vabbè, sperato Vabbè, se non c'era è giusto così Non voglio regalare, dai Gli ero tirato Io lo mettevo dall'altra parte angolino Non la vedeva niente Anche io lo mettevo nel set Vabbè, dai Valentino Un po' l'abbiazzone Perché ha tirato quello lì, cazzo? Lo poteva far tirare a... Non lo so Tomelli, uno di quelli lì, cazzo Poteva tirarlo anche delle macchie Zellman, cazzo lo tirare, giovane Anche sì, sì Non puoi far tirare lì, cazzo Occhio Bravo 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 Dai ragazzo, però Vabbè Se c'era la possibilità di riprenderli Se c'era la possibilità di riprenderli Cazzo, ha tirato un ringone di meno Un po' sbagliato, ha tirato malissimo Era facilmente barrabile Va bene, dai Va bene, dai Quanto male? Vabbè 22 minuti più recupero Io ho paura del traffico Chi ho la paura? Intanto arriveremo dentro il derby E arriveremo E' bello che il filo si deve fare anche la doccia E' il primo ad arrivare ed è l'ultimo ad uscire E' 1 a 1 il Sarmazzano con il Metanopoli No, ancora no Sarmazzano-Metanopoli 1 a 1 1 a 1 però L'Uson vince 4 a 1 con i Red Dev Ah, davvero Vabbè, L'Uson era in... Sì, sì, però Che devo non buttare la palla fuori Vabbè 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 Cazzo esci a 10-10 Esci un attimo, dai Vabbè 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 vai che c'è il campo cazzo dai fuori dall'altra parte oi stai il racino oi stai il racino oi stai il racino mamma mia sei fallo fallo giusto no è giallo giusto giusto ma è giallo ma io non capisco perchè non fa entrare cose ma basta che quanto manco quanto manco ma se è fortissimo che sta scannando cioè ti dico solo che io al 9 in allenamento gli avevano parlato 3 di fila gli rigori a quello che ha tirato il rigore da noi 3 di fila 9? al 9 non ha tirato il rigore lui ha tirato Valentini ha tirato Valentini non è il 9 è il 10 Valentini è il 10 non è il 10 dovremmo farne due adesso dai ma è impossibile si può fare ma non ce la fai cioè che cazzo meno che non ti vanno due azioni di culo due contropiedi e la butti dentro eh già intanto non devi sbagliare il rigore quanti fatte più grazie MAUSEN M'ha segnato il 7 però 7 e il 9 Io non capisco perchè non tira fuori quel cazzo di 10 e mette dentro Masselli Cazzo Masselli lo segnava Ma ovvio Ma che cazzo fai stia sto albito? Niente Sto fischiando bravo Bello No No Il cazzo di palo ha preso No Che sfiga questa Buona 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 Questa sfiga che ho però che sfiga 15 minuti cosa c'è? Basta chiedermi quanto manca Scasso Scasso Non mollarlo No no palla Vai 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 Vecca burda Ah capito Don Sei rispettato Quindi Marco Vai Marco Faglia lavoro Marco Di Gatti Dai xu Dai, sta buono Grazie a tutti. 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 a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. dobbiamo fare... grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti. La musica fa Oggi abbiamo giocato comunque meno peggio rispetto alla volta scorsa Ho visto un miglioramento, questo non è seppontente Poi dobbiamo ancora migliorare per vincere la partita Goal! E vai, grandi, così, bravi Non sta in 30 secondi E va bene, bravi però Ma cosa significa? Va bene Bel gol Manca il minuto, dai Bravi però Così, bravi Andiamo a fare pancetta Io se facciamo un pareggio vado a fare pancetta subito Io lo faccio Ma non lo faccio Ma non lo faccio Lo faccio, vado a fare, lo firmo Guarda dopo di corso No, non c'è il gioco. C'è neanche uno dietro che se fanno un contropiede non c'è nessuno dietro, cazzo. Dovemmo paraggiarlo. Guarda il segno da lì adesso, fatti lo da lì il segno. Ma manca 30 secondi comunque. Questa è la palla prima, cosa prima la palla poi Luca? Questo è da giallo. Al me su, che salto? Giallo, giallo. Giallo sì. Eh oh, fai due tattoli. Quanti minuti hai fatto l'equipo? Ah quattro, giusto, giusto. Insomma quattro minuti? Ma hai dato tre per lui, ragazzi. No, quattro minuti di recupero. Quattro minuti di recupero? Sì. E quando sei uguale per fischiare poi c'è stato un po' di paresa di tempo per fare un altro minuto. Spero. Quanto non pare già? Non c'è di culo a fare quel gol lì, ma... Eh va bene, dici il bocco, è già stato un miglioramento. 20 mazzora, non è... Se giallo. Vabbè... Non gioca meglio. Ciao.